buona giornata amici da massimo foghetti bentrovati alla rassegna stampa di fano tv scusate la voce stamattina ma i primi freschi e mattutini di fine estate si fanno sentire ma cerchiamo di spiegarci nel migliore dei modi oggi è sabato 9 settembre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi oggi si festeggia così come dice l'almanacco del giorno san pietro claver visse tra il xvi e il xvi secolo nacque in spagna e operò soprattutto in america a cartagena dove si distinse per la carità mostrata verso gli schiavi questo è san pietro clave ora diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo e vediamo che ci sono pochi ci sono pochi cambiamenti rispetto alla giornata di ieri sulle marche permane un tempo con cielo terzo il sole il sole è costeggiato un po su tutta la regione temperature massime entro i 29 31 gradi la minima si è testata a 19 gradi i venti moderati da nord ovest lungo i litorali nell'interno con una tensione debole espireranno da nord est il mare è poco mosso questo per quanto riguarda il tempo siamo posti sotto legida di san pietro claver ed ora possiamo aprire i giornali questa mattina apriamo per primo il corriere adriatico vediamo la pagina di fano dove si parla dei lavori lavori che si prolungano al quanto per la realizzazione del parco dell'aeroporto questo progetto che viene ormai desiderato da tanto tanto tempo soprattutto dagli ambientalisti ma anche da tanti cittadini della città di fano ebbene i lavori sono in atto ma non giungono mai a conclusione più volte l'amministrazione comunale è stata nelle condizioni di dare delle proroghe alla ditta che sta eseguendo i lavori ma questi stanno procedendo molto molto a rilento spesso in cantiere si sono visti soltanto due operai c'è stata quindi una riunione nei giorni scorsi a cui hanno partecipato il sindaco massimo seri soprattutto l'assessore ai lavori pubblici barbara brunori la quale ha tirato fuori le unghie questa volta anche se dotata così generalmente di un carattere molto mite e pacifico e ha posto la ditta di fronte alle sue responsabilità se alla fine dell'anno e questa è ormai l'ultima proroga che viene concessa non verranno terminati i lavori si procederà alla rescissione del contratto e alla richiesta di tutti i danni parco urbano lavori in forte ritardo ultimatum del comune all'impresa l'assessore a brunori opere terminate entro il 31 dicembre oppure la revoca del contratto e vediamo ora delle interessanti dichiarazioni che sono state evidenziate dal dirigente del liceo nolfi apolloni samuele giombi samuele giombi più volte è intervenuto per quanto riguarda l'aspetto sociale e anche l'aspetto etico dei suoi ragazzi ma anche dei ragazzi in genere della città di fano questa volta interviene sul bullismo sulla devianza di questi ragazzi che un po danneggiano arredi pubblici ma insomma si pongono anche il limite della delinquenza e secondo il dirigente samuele giombi ci sarebbero quattro buone ragioni per denunciare bisogna procedere alla denuncia non bisogna sottovalutare secondo giombi queste situazioni perché poi potrebbero debordare in altre situazioni peggiori a fare l'elenco il dirigente negli ultimi giorni che è rimbalzato dalla caserma dei carabinieri a quella della polizia proprio per denunciare due diversi episodi lui stesso dunque ha proceduto un dovere morale ha detto giombi da cittadino è un dovere anche giuridico del dirigente scolastico per fatti che toccano sedi di mia competenza il primo dei motivi che lo hanno spinto a ribellarsi alla filosofia di chi invece lo ritiene un esercizio inutile di pertanto non si arriva niente dicono alcuni cittadini come quando una vittima subisce il furto di una bicicletta ormai non lo si denuncia più tanto la bicicletta non si ritrova non è vero non è vero perché molte biciclette vengono ritrovate vengono restituite al comune e alla fine di qualche anno poi il comune è costretto a fare delle gare d'asta per così cedere tutto il parco biciclette che è stato ritrovato altrettanto ferma la volontà di non minimizzare e tenere all'attenzione su fenomeni allarmanti in aumento in quella che sta divenendo una città come tutte le città anche di dimensioni medio piccole particolarmente così importante per quanto riguarda la sicurezza occorre dunque denunciare le denunce concorrono a indirizzare l'attenzione delle forze dell'ordine verso situazioni e luoghi particolarmente esposti il pincio piazza amiani situazioni come quelle che si verificano in certi quartieri problematici ebbene i luoghi sono importanti da tenere sotto controllo e poi cosa abbiamo serve anche determinare quelle statistiche su cui poi le autorità competenti definiscono strategie operative ed organici perché se da noi emerge che è una città completamente tranquilla cosa che non è anche se non è caduta negli cessi di altre città molto più problematiche ebbene proprio su questi dati poi magari il ministero dice va diamo un agente in più al commissariato di Fano che stanno ce n'è stato uno solo insomma non è una cosa molto sufficiente però insomma queste situazioni pesano poi sulle decisioni che devono essere prese un articolo a fondo pagina riguarda invece un avvenimento particolare per un presidio territoriale che è di grande importanza quello del club anziani di Sassonia un club che è stato così costituito in forma informale possiamo dire così subito dopo la guerra la seconda guerra mondiale poi piano piano nel 1983 si è costituito formalmente quando sotto il sindaco Mazzoni si è proceduto alla riqualificazione della passeggiata di Sassonia secondo il progetto di Gianni Lamedica ebbene allora da quel momento il club anziani si è ingrandito ha realizzato tantissime iniziative proprio sul lungomare di Sassonia ed è stato un animatore non solo per gli anziani ma per tutti coloro che frequentano il logo e in più anche un presidio per la sicurezza perché frequentato da tante persone evita che in quel luogo magari si radunano gruppetti insomma che non hanno tanta tanta fiducia per il loro comportamento e passiamo a mercatello sul metauro dove c'è stata una importante assemblea di tutti i cittadini per il progetto che si preventiva che si profila per il completamento della superstrada Fano Grosseto ebbene mercatello è rimasto l'unico centro in cui ancora si protesta i cittadini non ne vogliono sapere di realizzare il progetto prospettato da ANAS porterebbe dentro il paese insomma in prossimità del paese un traffico insostenibile il progetto deve essere cambiato il territorio protesta contro l'ANAS Fano Grosseto la comunità di mercatello chiede di recuperare la galleria della soluzione Paccapelo ebbene Paccapelo prevedeva di bypassare a sud il paese con una galleria abbastanza lunga da non creare nessun problema al centro abitato quindi non c'erano problemi e bisogna tornare a questo progetto secondo il sindaco secondo la sindaca Fernanda Sacchi che è stata così rinforzata dal parere positivo di tutta la sua comunità. A terre roveresche il no della regione a realizzare un centro anziani appare ingiustificato lo dice il sindaco Sebastianelli che rilancia la richiesta di ottenere questa realizzazione una realizzazione che tra l'altro verrà finanziata con i soldi del comune quindi nel nuovo piano sanitario dovrebbe essere inserita anche questa previsione giudicata molto molto importante per quanto riguarda il centro di questa zona dell'entroterra. E vediamo ora Senigallia. A Senigallia si fa un consuntivo dell'estate che sta in languidendo possiamo dire che si sta avviando verso l'epinozio di autunno estate a due facce e ancora in chiaroscuro c'è chi non può chiudere a clienti non stop. A settembre anche gente di passaggio gente che magari si reca nel sud d'Italia in Puglia in Calabria ebbene Senigallia grazie alla sua posizione centrale nella penisola costituisce un centro ideale per magari fermarsi, passare la notte e quindi frequentare gli alberghi. Grazie a queste presenze anche la bassa stagione di settembre si sta salvando. E a questo punto sfogliamo il giornale sulla pagina di Pesaro, diamo un'occhiata articolo di apertura dove si rievoca il processo per l'assassinio di Pierpaolo Panzieri, lo ricordate. Fu trucidato la sera del 20 febbraio scorso in casa con 17 coltellate ad opera di Michael Alessandrini che poi è stato arrestato mentre era emigrato in Polonia. Semi infermità per Alessandrini, l'omicida può essere processato. Il pool di periti che si è riunito e ha valutato il caso in 300 pagine di relazione evidenzia comportamenti borderline associati a un abuso di alcol. Il difensore Salvatore Asole, l'avvocato lo vediamo qui in in questa fotografia, dice chiederemo il rito abbreviato, non credo verrà contestata la premeditazione. Dunque due pagine di risvolti, ovviamente c'è tutta la rabbia degli amici e dei parenti, dei genitori di Pierpaolo Panzieri che a questo processo sta rievocando tutto il dolore della perdita. Pugni contro il cellulare fatti vedere vigliacco, rabbia e disperazione dei genitori di Panzieri che chiedono giustizia. E parliamo ancora di cronaca, parliamo ancora di cronaca perché gli episodi di vandalismo si ripetono mai di giorno in giorno e vediamo quello che è accaduto nella giornata di ieri. Vandali appiccono il fuoco nel sottopasso, si tratta del sottopasso di Tombaccia, non è la prima volta che accade, vanno fermati ovviamente dicono i residenti e chiedono di installare due telecamere, c'erano già state altre incursioni in passato. Ebbene, bidoni, sterpaglie a fuoco, vandalismi e raffica nel sottopasso di Tombaccia e sarebbe ora di finirla. Vediamo anche quest'altro articolo che riguarda la fiera di San Nicola che oggi è al via, è l'avvenimento più importante che caratterizzerà Pesaro per i prossimi quattro giorni. In vigore tutti i divieti di sosta, e questo è anche importante per il cambiamento della viabilità che la fiera impone in tutta la zona del lungomare. Chiuso al traffico viale della Repubblica, nel tratto della Statale fino a viale Cesare Battisti, delimitato dalle transenne, alle auto è stata concessa la possibilità di circolare verso viale Trieste, arrivando dalle trasversali più vicine e viale Trieste e girando l'altezza di Piazzale della Libertà scaglionati sono entrati in vigore tutti i divieti di sosta e le modifiche alla circolazione per arrivare fino alle 20 di ieri sera quando il pacchetto è stato ormai completato e oggi dunque andrà in vigore. Ciò detto passiamo al Corriere Adriatico, anzi abbiamo visto il Corriere Adriatico, passiamo al resto del Carlino e vediamo l'apertura. Al resto del Carlino si parla con l'inizio dell'anno scolastico, sappiamo che già è iniziato l'anno per gli asili nido, il 13, prossimo il 13 di settembre inizierà l'anno scolastico per tutti gli studenti, tutti gli studenti dalle scuole materne su fino alle superiori. Nidi, crollo delle liste d'attesa, intanto abbiamo visto come l'aumento dei posti disponibili ha così fatto calare le liste d'attesa e per quanto riguarda questo servizio è partito completamente tutto l'orario, è partito anche il servizio mensa e il servizio degli autobus. Sono due delle tendenze del nuovo anno scolastico, 300 bimbi in più rispetto all'anno scorso per la refezione, assessore e sindaco soddisfatti. 140 mila euro dati all'albero azzurro, Gallizzi, Trottola e Gaggia hanno così comportato una esecuzione di una serie di lavori nel corso dell'estate, quando appunto le strutture erano chiuse. Ed ora una importante notizia, via Vitruvio tesoro accessibile, apertura straordinaria al pubblico. Molti cittadini hanno così espresso il loro desiderio di andare a vedere quello che gli archeologi hanno scoperto nel cortile di una casa in via Vitruvio dove si è parlato a lungo di Basilica di Vitruvio. Ebbene dopo che sono state fatte delle indagini, dopo che sono stati scoperti altri ambienti, dopo i primi venuti alla luce in passato, ebbene domani sarà il grande giorno perché la sovrintendenza archeologica delle Marche ha così preventivato delle visite guidate. Per parteciparvi occorre prenotare, occorre prenotare, vediamo se riesco a trovare il sito, per le prenotazioni bisogna inviare un'e-mail a Ilaria Ilaria.Venanzoni.it, indicando se si preferisce fare la visita al mattino o al pomeriggio e dopo si riceverà una risposta per quanto riguarda l'orario consigliato. Ebbene è una grossa opportunità questa che soddisfa tante tante curiosità di tanti cittadini per così vedere quello che è avvenuto alla luce. Giriamo la pagina sul resto del Carlino e parliamo di un giudizio che poi è difforme rispetto alla tendenza generale che ha caratterizzato il parere di tanti operatori turistici i quali si sono lamentati per l'andamento deludente di questa estate. Secondo invece Nicola Taffani di Bagnarzilla, ebbene il suo parere è difforme perché per lui la stagione è andata benissimo, ma che turismo in crisi, dice Nicola, si deve investire. La sferzata controcorrente di Nicola Taffani, titolare di Bagnarzilla, l'estate è andata benissimo, bisogna però rinnovarsi. È quello appunto che ha fatto questo concessionario di spiaggia che ha una delle più belle, posso dire, concessioni del nostro litorale. E poi un importante appuntamento per tanti cittadini che sono soci della banca di credito cooperativo. Oggi è il giorno della festa, della grande festa della banca per tutti i soci, quella festa che viene realizzata ogni anno al CODBA e c'è la previsione che saranno in 3 mila a partecipare a questa iniziativa. Oggi il tradizionale appuntamento di Rosciano si comincerà alle 19 e si proseguirà fino a tarda serata. Ricordiamo che è una festa che segue quella fatta la settimana scorsa con la concessione del bonus bebè nell'accogliente cornice della villa del Bali, di cui qui vediamo una fotografia. Fateci fare il centro diurno, lo paghiamo noi. È l'appello del sindaco Sebastianelli, per il sindaco di Terre Rovereschi, indirizzato alla regione che aveva respinto la domanda. Intanto accoglie al Metauro, apre un nuovo nido, è la COP che la gestisce e tutta di donne. Ebbene verrà inaugurato questo asilo che si chiama Dire, Fare, Giocare, aprirà lunedì prossimo e sarà disponibile per una fascia di età da 1 a 3 anni. Vediamo ancora la pagina di Urbino, dove c'è un'intervista ad Alfredo Rossini, dirigente medico che è anche vice segretario sindacale della NAO Assomed, il quale interviene un po' su tutti i problemi della sanità e soprattutto sulla carenza dei medici. Si usano quelli a gettone, è il titolo. Ebbene il lavoro viene affidato al privato tramite cooperative e questo certo non va. Invece a Piobbico si festeggia la festa dei brutti e c'è la gara per raggiungere la presidenza. Brutti lotta a suon di comizi per due candidati. A Piobbico c'è fermento. Salgono sul palco gli aspiranti presidenti al club Mirko Martinelli de Tobirra e Gianni e Luigi Labelva. Pensate i soprannomi di questi due personaggi che in realtà sono molto simpatici e qua vediamo che si stringono la mano. Ebbene assumere la carica del club dei brutti di Piobbico è veramente un obiettivo di prestigio perché il club dei brutti, a discapito del suo nome, è un club importante che agisce in modo determinante per la promozione del territorio e il paese si fa vanto di questa iniziativa. Passiamo anche all'articolo che il resto del Carlino evidenzia per la Fano Grosseto e alla riunione che si è svolta a Mercatello sul Metauro. Il sindaco Fernanda Sacchi nell'incontro pubblico dice non siamo per la strada a tutti i costi, non vogliamo che di questo progetto ne faccia la spese la nostra città, la nostra comunità. Vogliamo che il progetto tenga conto anche delle esigenze di questa piccola parte del territorio che non può essere penalizzata. Passiamo ora alla pagina di Pesaro dove anche il resto del Carlino dedica due pagine al delitto che si è compiuto ai danni di Pierpaolo Panzieri la sera del 21 febbraio scorso nella casa di via Gavelli dove abitava la vittima. I due amici avevano cenato, poi è successo qualcosa che gli inquilenti ormai hanno così capito, c'erano dei rancori che l'assassino nutriva nei confronti dell'amico e che sono esplosi poi nel dopo cena con l'omicidio fatto attraverso le coltellate. Le conclusioni dei due periti del GIP nella relazione di 140 pagine dice che l'assassino ha un disturbo grave della personalità. La difesa punta a richiedere l'abbreviato superando le aggravanti e a trasferire il trentenne in una Reims che è una residenza per quanto riguarda le malattie mentali, una residenza protetta. Non è un carcere, non è un manicomio ma è un luogo dove questi personaggi vengono curati e vengono assistiti e ovviamente anche qui si parla della rabbia contro l'assassino, contro Alessandrini che fino adesso è stato in carcere. Lo vediamo qui mentre viene condotto probabilmente in tribunale oppure durante gli interrogatori che vengono fatti. Lo vediamo qui sorretto da due agenti di polizia. La fiera si dà allo spettacolo non solo i tre chilometri di Bancarelle, oggi il via ai quattro giorni nel segno della tradizione ma con diverse novità, specie in Piazzale d'Annunzio. Ebbene Piazzale d'Annunzio verrà trasformato in un grande palcoscenico di spettacoli. Stasera sarà la volta dello spettacolo di cabaret croccante messo in scena da Pesolo Village con gag esileranti. Sempre nella stessa fascia oraria domani sarà la volta del folk rock italiano del balusque, mentre lunedì 11 sarà la volta del ballo romagnolo con i Doria e Max. Quindi ci sarà anche uno spettacolo che vivacezzerà tutta la presenza in questa grande kermesse che è la fiera di San Nicola. La provincia in cerca di una nuova sede. Il presidente Paolini cerca così di contattare i responsabili per agguantare l'offerta di Banca Italia. Annuncia l'incontro con i funzionari per avere l'edificio di via Rossini. Ebbene, ve lo ricordate? La sede di Banca Italia che è quasi di fronte al cinema Astra. Una sede prestigiosa per la provincia dopo che quella di Viale Gramsci insomma è un po' angusta e forse non serve più agli scopi di questa istituzione che però dovrebbe essere potenziata e dovrebbe riavere i compiti e le funzioni che aveva in passato. La nuova vita degli hotel, l'international Saramaxi, appartamenti all'ex bussola. Ebbene, in via Nazario Sauro a Pesaro nascerà una nuova palazzina con abitazioni vista mare. Anche in via da Vinci i lavori dovranno essere terminati nel giro di cinque anni e Pesaro si rinnova, si ricambia, ricostruisce e rinnova il suo patrimonio edilizio. E poi vediamo in conclusione questa notizia che è molto molto curiosa. La mania di un quarantenne. Pensate, entra in un maneggio, non viene specificato dove si trova questo maneggio, ma è un maneggio del nostro territorio. Ebbene, così colto da un'idea che è un po' molto molto estroversa, la definiamo così, si denuda, si applica una coda di cavallo e poi si cosparge di escrementi del cavallo e di orina e trotterella insieme ad altri cavalli che lui ha liberato. Ebbene, è stato ovviamente arrestato, insomma, fermato dai poliziotti i quali lo hanno condotto in un centro protetto. Anche qui si parla di una certa, così, problematicità a livello mentale. E questa era l'ultima notizia. Quindi possiamo chiudere i giornali. Io mi auguro che la voce ritorni tra breve quella di prima. Avrò una settimana di riposo perché da lunedì sarà con voi, Stefania Bonomi, a condurre la rassegna stampa. Noi ci risentiremo il lunedì successivo. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto.